Io vi saluto nuovamente, buon pomeriggio a tutti, grazie sempre per esservi collegati e per l'interesse verso questo corso di formazione. Siamo arrivati al nostro terzo incontro, in questo terzo incontro c'è Valentina Coletta dell'Associazione Oradaria, impegnata ovviamente nel discorso della tratta di persone, che ci parlerà nello specifico del nostro argomento focus di questo corso di formazione, che è appunto tratta e transessualità. Quindi ci parlerà un po' di quale sfide in più può porre, l'aiutare, il sostenere le persone transessuali. Quindi io in molto tempo vi ricordo che le situazioni siano poi disponibili e ve le manderò io degli incontri sul canale YouTube della Caritas di Roma. Senza indugiare, do la parola a Valentina che ringrazio moltissimo per aver accettato di partecipare. Vi ricordo di disattivare l'audio in modo che così Valentina possa parlare senza troppi rumori di sottofondo. Tutte le domande che avete potete tranquillamente scriverle in chat, come sempre, io poi le leggerò alla fine anche le osservazioni, oppure semplicemente alla fine alzando la mano o anche solo parlando. Quindi vi ringrazio e vi auguro buon terzo incontro. Buonasera a tutti e tutte, io sono Valentina Coletta, faccio parte dell'Associazione Oradaria, sono un'operatrice, sono dottora in psicologia clinica e oltre a Oadaria collaboro con l'ospedale San Camillo e per una comunità terapeutica per minori. Mi occupo di questo tema ormai da nove anni, ho iniziato qui a Roma con l'Associazione Casa dei Diritti Sociali e poi ho continuato a Bologna con il MIT, che è un movimento di identità trans. Sono nove anni che mi occupo in modo specifico del tema prostituzione e persone trans e poi tratta e persone trans. A me non piacerebbe fare una relazione frontale, devo essere sincero, siamo online e posso immaginare che possa essere abbastanza pesante seguire una lezione di un'ora dove io parlo e voi ascoltate, quindi mi piacerebbe essere il più interattiva possibile. Mi dispiace anche non essere riuscito a fare delle slide. Purtroppo ci sono state le festività e gli impegni lavorativi e familiari che mi hanno un po' impedita in questo. Però vi prometto di farvi recapitare poi una scheda riassuntiva di quello che affronteremo oggi, perché comunque è un argomento abbastanza denso. Abbiamo poco tempo e non riuscivo a essere esaustiva completamente, però mi piacerebbe interagire di più, vi darò alcuni input un po' più teorici e altri più pratici, e poi potremmo interagire. Immagino che tutti, forse nella vostra attività di volontariato, nella vita, abbiate incontrato almeno una volta una persona trans. Ecco, lo stereotipo purtroppo è sempre quello della persona trans sudamericana e prostituta. Diciamo che è uno stereotipo in parte confermato, in parte anche no. In realtà le persone trans che si prostituiscono sono solo il 10% della popolazione trans, almeno qui in Italia. Il problema secondo me è sempre una questione di classe. Ecco, se oggi vediamo nella popolazione trans italiana, che secondo l'Istituto Superiore di Sanità ammonda circa, c'è una stima che conta circa 400.000 persone, vediamo un miglioramento delle condizioni, perché c'è una maggiore accettazione delle famiglie, si inizia prima, se ne parla sempre di più, dove le scuole e le università sostengono certi tipi di percorsi, quindi aumenta anche un certo tipo di benessere e certe scelte date dalle condizioni economiche non vengono più fatte, perché vengono migliorate certe condizioni, perché c'è sostegno di famiglie e della rete sociale. Invece in strada, quello che ci capita di incontrare nel 99% dei casi, purtroppo, sono donne trans migranti. Questo perché? Perché purtroppo essere migranti è un fattore di rischio verso la povertà nel nostro paese, perché sono persone che scappano da contesti dove c'è un'alta transfobia sociale. Se pensiamo al Brasile, secondo le statistiche di Transgender Europe, che è un'associazione a livello europeo che purtroppo ha questo triste compito di contare le persone che muoiono ogni anno, persone trans che muoiono ogni anno nel mondo, ecco, il Brasile è il primo paese al mondo per omicidi di persone trans. E quello che sappiamo dalle testimonianze sia delle ragazze che incontriamo in strada, ma anche dai media locali, cioè la vita di una donna trans in Brasile vale meno a quella di un cane. Ci sono tante testimonianze che si può essere ammazzati ma per futili motivi e non mentre si lavora in strada. Spesso le persone trans vengono ammazzate così anche alla fermata dell'autobus. Magari mentre vanno a trovare un familiare oppure sono alla ricerca di un lavoro oppure semplicemente sono andando in giro con amici e amiche. E con il livello di violenza e il valore che si dà alla vita è molto più basso rispetto a quello che sicuramente abbiamo qui in Europa. Poi qui abbiamo altri problemi. Purtroppo l'Italia in Europa invece ha lo stesso primato del Brasile. L'Italia è il paese con il più alto numero di omicidi di persone trans che purtroppo sono circoscritti tutto nell'ambito della prostituzione. Se in media vengono uccise 10 donne trans in Italia all'anno ecco nel 99% avviene sempre in strada da parte di clienti di prostitute proprio per il degrado che poi può avvenire. Come sapete poi i clienti sono spesso chiedono l'abuso di alcol e chiedono l'abuso di droghe e quindi la situazione può degenerare perché magari con un cliente da una parte fragile e dalla parte allo stesso tempo violento ci possiamo trovare in situazioni non proprio credevoli. Però ritorniamo invece a chi sono le persone trans perché spesso come ho detto all'inizio si troviamo davanti allo stereotipo però poi davvero conosciamo le persone trans sappiamo chi sono sappiamo perché una persona sceglie di fare un percorso del genere ecco da un punto di vista medico psicologico è una è una condizione conosciuta almeno da dall'inizio del novecento ma la storia trans è molto più antica di quello che la medicina possa immaginare ci troviamo qui in corso della Caritas mi permetto essendo una sorella valdese ricordarvi che nella Bibbia già se ne parla e spesso nelle pieghe dell'antico nuovo testamento anche nel Talmud ci sono queste figure liminali all'interno della storia anche biblica che a volte appaiono e che però poi non riusciamo a inquadrare bene perché poi sono inquadrate in quella cultura antica che non è un po' lontana della nostra perché probabilmente avevano compiti diversi ruoli diversi a livello sociale che però esistono c'è un so che una rabbina riformata aveva contato cinque generi all'interno del Talmud e del Tanakh quindi è un qualcosa che è sempre esistito che però è stato ai margini della storia perché è una storia non raccontata pensiamo agli scritti di Porfora Marcasciano presidente ex presidente del MIT oggi consigliera comunale di Bologna spesso fa riferimento a questa storia non raccontata dalle persone trans perché è sempre margini ma sempre esistite in realtà e ogni tanto riaffiora qua e là nella storia raccontata dalla maggioranza che esistono queste figure però ci sono stati ai margini nel nostro paese abbiamo un esempio di come questo tipo di figure di genere che sono al di fuori del binarismo maschile e femminile esistono in alcune culture regionali pensiamo a Napoli i femminielli e soprattutto il legame che parli femminielli con la religione cattolica perché c'è tutta una ritualità delle tradizioni molto antiche che in realtà sembrerebbe che derivano dagli antichi coloni greci e poi sono state poi acquisite all'interno del cristianesimo cattolico quindi c'è questa presenza sempre stata molto forte e però nessuno mai si è chiesto perché una persona sceglie di fare questo ecco l'organizzazione mondiale della sanità parla di incongruenza di genere c'è questa condizione in cui una persona assegnata alla nascita al maschile o al femminile sente percepisce che quello non è il proprio genere che quello non è il proprio corpo e che ha bisogno di modificarlo di vivere in un altro modo se mi permette del termine quasi una vocazione a essere dell'altro genere o di un genere completamente diverso oggi vediamo questo fenomeno soprattutto in occidente ma devo dire si sta rifiutando anche in sud America del non binarismo cioè di non riconoscersi né nel maschile né nel femminile e interpretare quasi un altro un terzo genere che sia diverso ecco è una sensazione forte molto incarnata nel colpo delle persone trans che è l'unico modo poi per mettere a tacere anche un certo tipo di sofferenza sofferenza ma anche gioia per ricercare se stessi è cambiare cambiare vivere e trasformare il proprio corpo nel genere a cui si senza di appartenere perché sappiamo dalla clinica che è l'unico modo per trovare poi un equilibrio nella vita è fare questo percorso che si chiama percorso di affermazione di genere ecco questo noi qui in Europa in Italia lo possiamo fare perché abbiamo un avanzamento dei diritti un servizio sanitario nazionale che permette di sostenere persone anche molto giovani in questo percorso in Sud America non è proprio così ecco perché tutto tutto è fatto come direbbe una mia vecchia utente cubana alla massamba cioè un po' alla buona e dove però basta pagare e tutto si può avere ecco e le persone trans dal Sud America infatti oltre a scappare da quello che dicevamo dalla violenza di genere anche molto pesante c'è una violenza fisica che preme poi nella scelta di alcune persone c'è anche altri tipi di scelta che possono anche essere sanitari perché si sa benissimo che in Europa c'è la possibilità di curarsi meglio soprattutto perché molte persone che anche si prostituivano in strada in Sud America poi contraggono all'HIV e quindi sanno benissimo che il livello di cure in Europa è più alto la possibilità di fare un percorso di transizione qui in Europa ed essere eseguite scappare dalla povertà che penso che sia uno dei principali motivi per cui le persone poi si rivolgono alle organizzazioni criminali e in alcuni casi scappare anche da situazioni familiari non proprio rose perché non ci scordiamo che la violenza di genere e la transfobia nasce soprattutto in famiglia e quindi tutti questi fattori che possiamo chiamare fattori di stress premigratori portano poi le persone a fare questa scelta e questa scelta vivendo la maggior parte di loro nelle favelas in condizione comunque di povertà non dico assoluta ma quasi arrivati a queste famose organizzazioni che poi trattano e sfruttano le persone nel lavoro sessuale qui in Europa anche purtroppo in modo consapevole non è più come una volta che ci sono le false promesse di un altro tipo di vita qui in Europa all'inizio 40 anni fa promettevano di venire a fare le parrucchiere in Italia oggi purtroppo tramite i social si sa benissimo cosa vengono a fare ma immagino di farlo in un modo diverso rispetto al Brasile o alla Colombia cioè avere comunque la facendo cioè prostituendosi ma in condizioni di vita migliori purtroppo il più delle volte non è così e quindi con questo inganno che può avvenire o tramite i conoscenti in strada nello stesso quartiere o anche tramite internet soprattutto tramite cioè sono degli adescamenti tramite Facebook dove si fanno queste promesse dove l'organizzazione si impegna a fare il passaporto per la persona a comprare il biglietto a trovare poi il posto qui in Italia però poi non sapendo qual è la verità sul debito ecco quindi come funziona l'organizzazione organizza il viaggio la persona arriva in Europa solitamente si arriva o dalla Spagna o dalla Francia e poi nell'ingresso all'Unione Europea c'è sempre qualcuno o qualcuna che o va a prendere direttamente in Francia la persona adescata oppure c'è un altro biglietto per poterla far arrivare qui in Italia e una volta arrivata qui subito le condizioni cioè vengono arrivate quali sono le vere condizioni di vita che in molti casi sono quasi di semi schiavitù perché da quello che sappiamo dei racconti soprattutto delle ragazze che ospitiamo in casa che spesso soprattutto all'inizio quando devono ripagare il debito non sono libere di uscire da sole da casa viene ritirato il passaporto un po' come funziona anche in altri tipi di tratto penso quell'altra che conosco meglio è quella delle donne nigeriane dove c'è questa semi schiavitù dove i documenti vengono ritirati dove non c'è possibilità di uscire di casa dove bisogna portare dei soldi e quando è possibile uscire di casa comunque c'è uno sfruttamento nello sfruttamento perché le persone oltre a ripagare il debito per il viaggio che generalmente si aggira sui 12-15 mila euro poi le organizzazioni chiedono l'affitto della stanza del posto letto o del posto in strada che non vengono una maggiorazione per il cibo vengono chieste soldi per essere accompagnate sul posto di lavoro quindi c'è tutta una rete di sfruttamento anche soft e spesso le ragazze non percepiscono perché non vengono viste come cose violente penso spesso a discorsi che faccio le ragazze sui famosi autisti che accompagnano le ragazze dalle case alla strada e prendono 20-50 euro per ogni viaggio che non viene assolutamente visto come come sfruttamento tra le persone oppure dover pagare 300 euro a settimana un posto letto anche questo non viene percepito come sfruttamento però poi quando viene fatta vedere la verità viene portata le persone a conoscere in realtà quali sono le vere condizioni di vita in Italia si iniziano ad aprire gli occhi ecco e questo perché perché queste persone li sottopongono a questo grado di violenza che è molto forte è molto traumatico cioè io nella mia esperienza da psicologa incontro ragazze trans veramente a pezzi cioè e a volte è molto difficile eseguirle perché spesso sono persone che poi hanno un disturbo post-traumatico da stress e comunque la violenza e gli stress subiti durante la tratta possono portare a altri tipi di problemi psichiatrici o problemi psicologici verso la depressione l'abuso di sostanze ecco diciamo che tutto questo è un grosso fattore di stress è un grosso fattore di rischio per la salute mentale di queste persone oltre che per la salute fisica e poi non ci dimentichiamo che la maggior parte poi per via di questo lavoro contraggono come abbiamo detto prima l'HIV ma non solo altri tipi di infezioni e trasmissioni sessuali quindi il rischio per la previa salute è sempre molto alto il prezzo da pagare è molto alto e questo spesso succede perché oltre a scappare però si viene anche per sostenere chi rimane dall'altra parte perché come succede per le donne nigeriane o per altri tipi di tratta alla fine una delle grandi motivazioni è aiutare i propri cari che sono rimasti a casa la mamma che la mamma è sempre un po' nel cuore delle persone trans e questa cosa l'ho vista cioè dall'italiana e anche da altre nazionalità questo grosso legame con la propria madre e poi i fratelli i sorelle poi sappiamo lì c'è una concezione della famiglia che non è quella nostra nucleare mamma papà massimo fratelli e sorelle c'è una famiglia molto più allargata dove chi poi emigra deve sostenere tutto il resto della famiglia con donne trans che hanno permesso a nipoti oppure addirittura ad eventuali figli che hanno avuto prima della transizione di potersi laureare oppure di riuscire a comprare casa per le proprie famiglie o acquistare dei negozi per poter dare un'attività commerciale alla propria famiglia ecco che alla fine uno pensa il vizio se vogliamo usare degli stereotipi pensa al divertimento al piacere delle persone trans che possono scegliere questo lavoro no questo lavoro viene sì scelto ma viene scelto per sacrificarsi per i propri cari per dare un futuro purtroppo alle proprie famiglie mettendosi poi in mano a delle persone che sono senza pietà cioè che poi e poi e poi ne escono completamente distrutte ma ne escono anche distrutte perché poi non minimamente non immaginano che che essere trans voglia dire anche altro che ci sono altre alternative alla strada che almeno qui in Europa ma quello che vediamo in realtà anche giù in Sud America che in realtà il pregiudizio è talmente interiorizzato che le persone si autosabotano e quindi continuano a fare questo tipo di mestiere perché pensano è l'unica cosa che si possano fare nella propria vita e quasi come ci fosse un completo abbandono del loro corpo per poi sacrificarlo per i propri cari oppure pensando che c'è solo questo è l'unica strada possibile e invece c'è quello che noi cerchiamo di fare una data è anche un po' insegnare che non è l'unica strada possibile e che bisogna prendersi cura del proprio corpo e anche del proprio spirito e della propria mente che non ci si può distruggere in questo modo e che invece proprio per sostenere le proprie famiglie e anche se stesse bisogna avere un certo tipo di cambiamento poi noi abbiamo una politica di non giudizio su chi invece sceglie autoramente di fare lavoro sessuale perché noi sospendiamo il giudizio su questo non possiamo entrare poi nelle decisioni personali però quello che cerchiamo di fare è di dare degli strumenti a queste persone affinché non si facciano del male e che possano avere una vita più sana e come avere una vita più sana poi nel pratico sul nostro territorio a Roma dove indirizzare queste persone e poi soprattutto di cosa hanno bisogno perché poi ci sono dei bisogni specifici che sono diversi da altri tipi di popolazioni target beh sicuramente come tante persone che fanno questo tipo di lavoro hanno bisogno di un sostegno dal punto di vista infettivologico e noi mandiamo sempre perché sono i massimi esperti non solo a Roma ma a livello nazionale lo Spallanzani dove comunque sono preparati ad accogliere questo tipo di utenza altro tipo di invio che noi spesso facciamo è il SIFIP e il Policlinico Umberto I il SIFIP se non lo sapete è un servizio dell'ospedale San Camillo che è preposto per accompagnare le persone nel percorso di affermazione del genere quindi è l'ambulatorio dell'ospedale San Camillo che da un punto di vista psicologico aiuta le persone verso la transizione di genere e poi da lì le persone vengono inviate al servizio di endocrinologia alla quinta clinica dell'Umberto I in modo da poter essere eseguite da un punto di vista medico nella propria transizione perché spesso le persone trans subamericane che incontriamo in strada fanno un po' un abuso di ormoni e quindi bisogna agire su una riduzione del danno anche da questo punto di vista e quindi potendo fare questo tipo di invii si può aiutare le persone a ridurre i danni fatti da una rassunzione di ormoni non seguiti da un medico perché possono essere anche molto rischiosi per la salute della persona perché spesso la terapia ormonale in realtà se è fatta ad un endocrinologo può portare la persona a rimanere in buona salute perché la terapia viene costruita sulla persona e vengono usati degli ormoni adatti per quel tipo di persona e invece in strada no vengono assunti c'è un vecchio film degli anni 90 che si chiama Priscilla la regina del deserto dove c'è la scena di questa drag queen che in un camper in mezzo al deserto fa colazione con una ciotola di antiretrovirali e ormoni al posto del latte cereali e spesso mi viene in mente questa scena qui quando le ragazze in strada mi dicono come prendono gli ormoni ne prendono tanti senza sapere gli effetti colaterali e vanno avanti così e invece andrebbero indirizzate invece anche verso questo tipo di salute della tutela di questo tipo di salute altro invece ambulatorio importante per questo tipo di utenza a Roma abbiamo notato che l'ex San Gallicano gli NMI scusate gli NMP e in realtà è un centro molto importante per questo tipo di utenza uno con meraviglia ho scoperto la grande competenza di medici e psicologi di questo centro che accompagnano le nostre ragazze e loro studiano molto bene soprattutto al servizio di psichiatria a cui ci rivolgiamo sono molto esperti su questo tipo di utenza con molto piacere abbiamo scoperto questa cosa e poi i soliti INBI come tutte le altre persone però fondamentalmente da un punto di vista sanitario sono questi gli INBI che possono essere fatte con le persone incontrate in strada io ho parlato per quasi mezz'ora e non lo so forse passiamo alle domande approfondiamo argomenti che abbiamo toccato fino a adesso mi invito anche io a fare tutte le domande che vi vengono in mente sempre sia in chat così le posso leggere io oppure direttamente a Valentina Valentina io sono Silvia ciao ciao Silvia sono molto interessata a questo argomento diciamo che in Caritas mi occupo più che altro di vittime della tratta però più ecco come dicevi nigeriane eccetera e invece questa queste altre che hai descritto sono diciamo un mondo nuovo per me che però al quale tengo molto ma più che altro perché ho trovato sempre strano il fatto che venisse ignorata questa grande fetta di persone che poi anche spiritualmente probabilmente hanno bisogno di un accompagno di un aiuto e questo volevo dirti voi avete una parte diciamo come accompagnamento spirituale nella vostra organizzazione allora Oradaria è un'associazione laica non è un'associazione religiosa però hai fatto un'osservazione importante io come come psicologa collaboro anche col dipartimento di psicologia dello sviluppo della sapienza stiamo portando avanti una ricerca proprio con le persone trans sudamericane vittime di tratta e con nostra sorpresa abbiamo notato che le persone più religiose sia cattoliche che evangeliche o che pure seguono riti più animisti come il candamblé sono le persone che poi hanno meno transfobia perché in letteratura esiste quello che viene chiamato tecnicamente coping religioso cioè sono tutte quelle strategie che la persona mette in atto per affrontare i problemi quotidiani della vita e che in questo caso hanno una base sulla propria fede religiosa ecco tantissime persone trans in realtà in passato in una vecchia ricerca avevo condotto per la sapienza che era per la mia tesi di laurea e avevamo visto questo fenomeno anche in persone trans musulmane che venivano dal Medio Oriente lo stesso fenomeno che la religione in realtà da quello che se ne dica può essere anche la religione più fondamentalista di questo mondo in realtà poi per molte persone trans in realtà per molte persone LGBT in generale diventa invece una fonte di una risorsa che permette poi di affrontare difficoltà quotidiane poi ti posso rispondere privatamente perché io sono protestante e sono una predicatrice locale quindi sono una credente e io vedo spesso quando ho invitato tante persone sudamericane a venire in chiesa perché poi molte sono di famiglia evangelica dove invece iniziano a stare meglio perché c'è bisogno poi di una comunità dietro quello che mi dispiace spesso ho visto che persone più che altro è un po' un timore da parte della persona trans ad avvicinarsi alle parrocchie cattoliche nel caso delle donne cattoliche che ho conosciuto perché c'è sempre questa paura del pregiudizio perché probabilmente in passato avranno avuto qualche tipo di rifiuto da parte delle loro parrocchie nel loro paese di origine però uno privatamente io fuori dai miei panni psicologa di operativi sociali cerco di spiegare che non è sempre così poi abbiamo un esempio a Torvajanica la parrocchia di Torvajanica ha una bella comunità trans sudamericana che partecipa sono quelle donne che avevano scritto al Papa durante la pandemia per chiedere un aiuto economico il Papa ha risposto e tramite la parrocchia poi ha fatto pervenire gli aiuti e poi noi come ora d'aria anche se siamo un'associazione laica abbiamo poi dalla parrocchia nel gestire questi aiuti che sono pervenuti a questa comunità trans argentina presente in quel territorio grazie grazie delle informazioni poi ti contatterò in privato grazie Silda grazie Valentina io inizio se volete a leggere qualche domanda osservazione che sono arrivate intanto in chat Paolo ci chiede come mani nel nord Europa o se vuoi nei paesi non latini la persona trans vive una vita sociale normale senza doversi prostituire perché il nord Europa ci superano sempre perché sono state portate avanti delle campagne sociali contro la discriminazione e ci sono soprattutto in Scandinavia questa domanda l'ho fatta anche io una volta devo dire parlando con una con una ricercatrice svedese che si occupa di tratta e devo ma perché in Svezia non ci sono prostitute trans e mi fa no che non ci sono sono talmente poche che sono invisibili e sono tutte locali ma perché la maggior parte delle persone trans in Svezia ma come negli altri paesi di Scandinavia ne lavorano perché gli stati hanno messo in campo delle politiche di integrazione da questo punto di vista che hanno dentro l'accesso al diritto allo studio e diritto al lavoro in Italia come in tanti altri paesi latini qual è il problema è che siccome la discriminazione cioè il famoso bullismo che incontriamo dalle scuole cioè dalle scuole elementari in poi è un fattore di rischio per l'abbandono scolastico perché tante persone LGBT o comunque hanno un espressione mettiamola così che forse è meglio che hanno un'espressione di genere non conforme al genere assegnato alla nascita quando sono bambini e poi quando durante l'adolescenza inizia a emergere la propria identità sessuale e c'è questa discriminazione omofobica e transfobica a scuola ecco è lì che poi tante persone soprattutto persone trans abbandonano gli studi e quindi quello è il fattore in più di rischio per poi finire in strada perché non c'è un'istruzione che permette poi di avere una professione per fortuna in Italia questo non c'è più cioè io sono trans non lo nascondo ho fatto le scuole cattoliche e però ho potuto studiare ho avuto la mia famiglia che mi ha sostenuta anche l'università oggi comunque sostiene le persone trans che vogliono interpretare un percorso di studi cambiando almeno aiutando a cambiare il nome sui documenti ufficiali dell'università in modo da non dover stare lì a chiarire ogni volta ai professori e ai colleghi la propria identità sessuale sono questi piccoli accorgimenti che però facilitano il percorso di una persona nei propri studi ecco è proprio questo il problema che bisogna lavorare nell'inclusione se non si abbatte il pregiudizio non ci può non ci può essere inclusione senza inclusione non ci può essere l'accesso al lavoro e quindi senza inclusione si finisce in strada ok grazie c'è Maria Teresa che invece fa questa osservazione e chiede credo farebbe piacere a tutti conoscere un po' di storie di persone già trattate dai servizi dedicati non so Maria Teresa se intendi persone che hanno seguito un percorso di emersione dalla tratta o persone che hanno seguito un percorso di assegnazione di riassegnazione di genere non so se qual è il focus della domanda sì persone che ne sono uscite con l'aiuto dei servizi va bene grazie anche per dare un po' di speranza alle persone che vi seguono ecco allora per rispondere anche un po' alla domanda successiva in realtà devo dire che la speranza c'è perché poi paradossalmente le persone che arrivano a noi mica arrivano tramite i servizi arrivano nel passaparola perché poi i ragazzi da te loro parlano e ah sai c'è questa associazione che ti può aiutare perché magari da te loro parlano si confidano qualcuno vuole scappare dalla caffettina ma questo non ve lo spiegato caffettina perché soprattutto se siete in contatto con persone che vengono dal Brasile eh è possibile che sentirete questa parola caffettina che significa pappona letteralmente in portoghese perché viene dalla 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 parola caften che è sfruttamento in portoghese e e spesso tra loro si confidano dicono voglio scappare voglio scappare e quindi poi arrivano dando i nostri numeri direttamente perché c'è un po' un bias c'è un pregiudizio da parte degli operatori sociali dei servizi sociali in generale su questo tema a me quando lavoravo a Bologna mi è capitato eh con operatori di strada con esperienza ventennale sentirmi dire vabbè ma le trans lo scelgono no non lo scelgono assolutamente no c'è questo questo operatore maschio tra l'altro era convinto che non esistesse la tratta trans infatti veramente è proprio tutto il contrario anzi insieme a quella nigeriana è anche una di quelle più feroci e quindi per questo accesso c'è bisogno di fare un po' di lavoro tra i volontari e gli operatori e far capire che ci sono poi poche realtà come la nostra che aiutano le persone esperienze in realtà ci stiamo pensando stiamo pensando a un libro però sarebbe anche una bella idea forse fare video mi interessa una bella idea che pubbliche come testimonianze non ce ne sono anche perché poi di solito le persone che escono dalla tratta almeno dalla mia esperienza poi non ne vogliono più parlare cioè vogliono completamente dimenticare questo tipo di esperienza c'era stata una persona trans che aveva fatto questo tipo di esperienza che era una mia cara amica e che purtroppo poi non c'è più purtroppo la malattia l'ha portata via e quindi era una che ogni tanto ne parlava pubblicamente ma non è così facile parlare pubblicamente di essere stata trattata io ho conosciuto anche tante operatrici pari ligeriane però facevano operatrici pari non facevano testimonianza pubblica questo succede anche nel nostro mondo che ci sono delle operatrici pari cioè delle operatrici trans che sono fuoriuscite dalla tratta che poi si mettono a disposizione per aiutare altre persone a uscirne vedo qui un'altra domanda ci chiede Gina se hai esperienza di vissuti di ragazzi e come loro vivono questo se vengono anche loro sfruttati sessualmente e com'è il percorso di accompagnamento delle persone trans ok io immagino che intendesse uomini gay pochi perché non esiste un vero fenomeno della tratta di maschi gay e paradossalmente non dal sud America perché quei pochi ragazzi gay che ho conosciuto vittime di tratta venivano dalla Nigeria è un fenomeno molto di nicchia ma come di nicchia il fenomeno della prostituzione maschile non è cioè rispetto a quella femminile a quella trans è veramente poca roba e spesso lì è una scelta autonoma io non ci vedo tutto questo sfruttamento dei pochi casi che ho visto in passato però erano legati più era uno sfruttamento misto come succede per la tratta pakistana che è un tipo di tratta che se ne parla poco che però non è presente sul territorio romano ma che ho visto invece in Emilia Romagna che è collegata allo sfruttamento lavorativo c'è la tratta per lo sfruttamento nei campi o all'interno delle fabbriche o all'interno dei ristoranti ecco questo ragazzo che avevo conosciuto era sfruttato nei campi nigeriano però allo stesso tempo veniva sfruttato per lo sfruttamento sessuale che era iniziato nei lager in Libia che era continuato anche qui in Italia poi però o è un fenomeno molto sommerso ma da che io sappia anche delle statistiche ufficiali è un fenomeno veramente molto raro quello che invece è più diffuso è la prostituzione autonoma di maschi gay per esempio all'interno dei centri di accoglienza quello sì e ce n'è tanta anche a Roma c'erano dei posti almeno io adesso non faccio venire da Roma a Roma in strada da tanti anni però fino a qualche anno fa c'erano dei posti dedicati alla prostituzione maschile che erano un po' quelli storici che già raccontava Pasolini negli anni sessanta ad esempio Piazza Esedra Piazza della Repubblica o con più precisione a Piazza di Termini Diocleziano quello è un luogo storico della prostituzione maschile a Roma che fino a qualche anno fa era la zona di ragazzi del sud Italia o rumeni e poi c'è la stazione Termini però lì non possiamo parlare di tratto e sfruttamento è un'altra cosa dunque sua Lucia ci chiede ci dice che ha da poco fatto amicizia con una persona transessuale con un IDS avanzato che le ha chiesto aiuto perché dove abitava era stata cacciata e chiedendo alla Caritas ho scoperto le possibilità che sono disponibili diversi aiuti qui a Roma a questa osservazione forse mi posso agganciare anche io e chiedere un po' come si può procedere se una persona che fa palmo lontano è un operatore di un'unità di strada si trova di fronte alla richiesta di aiuto di una persona trans e come può indirizzarlo verso un'accoglienza che sia anche un po' protettiva beh in questo caso io mi rivolgerei direttamente lo Spallanzani e i servizi sociali dello Spallanzani penso che sono gli unici capaci di indirizzare un operatore verso un servizio così specialistico perché poi da lì loro hanno i contatti con le varie strutture case famiglie che si occupano di questo tipo di casi molto gravi ecco anche però dovete sapere che c'era un po' un problema ultimamente perché io ho avuto un caso del genere esempio lo Spallanzani mi ha scoraggiato perché avevamo trovato una struttura fuori regione che era disposta ad accogliere questa persona che seguivo e lo Spallanzani mi ha scoraggiata perché la regione Lazio non fa più invi fuori regione per esempio e quindi lì bisogna collaborare molto con i servizi sociali dell'ospedale per cercare poi soluzioni sul nostro territorio regionale è un po' un limite perché per esempio che io sappia c'è una casa famiglia molto sono due case famiglie una al nord e una al sud molto bravi con le persone transessuali malate di ADS non di HV parliamo proprio di ADS in stato terminale che è San Patrignano in Romagna e poi c'è una struttura della Chiesa Cattolica giù in Calabria dove è una casa famiglia di una fondazione cattolica dove sono molto bravi dove già una mia utente è stata ospita in passato e dove si era trovata benissimo però purtroppo la regione mette dei limiti quindi il consiglio è rivolgersi allo Spallanzani e poi saranno loro a fare l'invio allora Paolo chiede cosa ne pensi dell'abolizione della legge Merlino per i motivi di prevenzione della salute e della sicurezza ma io non credo che la cioè almeno che io sappia non si voglia abolire la Merlino su questo punto di vista cioè io non sono un attivista sex worker però nella mia vita ho avuto tanti contatti con questo tipo di attivismo politico e quello che spesso dicono soprattutto le donne sex worker è quello di poter un po' regolamentare la prostituzione in Italia proprio per paradossalmente far diminuire lo sfruttamento che sicuramente non è il modello tedesco né quello austriaco se non lo conoscevi adesso mi capi però posso spiegare in Austria in Germania soprattutto esistono questi grandi alberghi che molto ipocriticamente chiamano alberghi in realtà sono case chiuse dove c'è lo sfruttamento in realtà lo sappiamo invece cioè che tante ragazze poi vanno a lavorare anche lì dall'Italia tante persone trans vanno anche in Austria e in Germania a volte perché poi le persone trans c'è un po' tutte le persone che si prostituiscono in strada vittime di tratta si spostano non solo in Italia ma in giro per l'Europa perché è una rete non è una rete italiana è una rete europea di sfruttamento e spesso sono coinvolti anche questi alberghi dove le persone non sono libere di scegliere i propri clienti paradossalmente le prostitute sono più libere in strada perché possono scegliere il proprio cliente invece lì no perché l'azienda riconosciuta dallo Stato ti obbliga a avere prestazione anche con un cliente che uno non vuole accettare ed è terribile questa cosa io di sotto cerco di sospendere il giudizio morale perché se dovessi fare un ragionamento partendo dalla mia etica cristiana direi una cosa e in caso di questo lavoro di sospendere sempre il giudizio è di capire qual è il sistema che ci permette di ridurre il danno tanto salvare le persone noi possiamo salvare quello che possiamo fare è ridurre il danno e cercare di fare meno danni possibili e secondo me questa autogestione come l'ha interpretato alcune attiviste italiane dove sono massimo tre prostitute per casa dove si autogestiscono potrebbe nessuno ci dà la certezza è dare un limite allo sfruttamento della tratta però parliamo di cose secondo me molto complicate e molto complesse dove dietro ci sono anche tanti interessi cioè io a cappone la pelle sentire alcune proposte di alcuni parlamentari italiani di riproporre il modello tedesco ma anche sentire parlare di modello svedese perché poi ci sono le testimonianze delle donne io sento soprattutto donne nigeriane sulla Svezia delle cose che per me sono atroci dove lì c'è il divieto astrutto di prostituzione dove vengono criminalizzate sia le donne che i clienti e poi qual è il problema perché il problema che le paga sono le donne e lì soprattutto che c'è tanta tratta da donne nigeriane in Svezia vediamo queste donne che seppur denunciano poi qual è il prezzo da pagare il prezzo da pagare e ritornare in Nigeria perché la Svezia non ha l'articolo 18 come l'abbiamo noi di protezione che ti protegge per il tempo del processo e poi arrivederci grazie ritornando giù nel paese poi dove ha conosciuto l'organizzazione dei propri sfruttatori e quindi non mi sembra un modello da proporre alla fine il modello italiano su alcune cose è anche più positivo cioè almeno c'è una tutela della donna e nel caso dovessero esserci bambini anche dei bambini in altri modelli questo non c'è non c'è la tutela della persona non è concepita e invece noi dovremmo pensare di mettere al centro la tutela della persona prima poi su quello che è l'assfruttamento e la tratta se ne può ragionare si possono vedere tanti altri modelli però sicuramente la salute e la sicurezza della donna o della donna trans che si prostituisce deve essere sempre al centro è l'unico modello se non è possibile poi non lo so per me è talmente complesso che non saprei dare una risposta univoca sulla Merlin o su altre cose cioè io quello che ho imparato in questo lavoro è ascoltare tanto chi abbiamo di fronte perché voi sinceramente io conosciuto anche tante donne e tante donne trans se questo lavoro lo scelgono come direbbe qualcuno vestito di bianco che sono io per giudicare e io ho imparato questo io non posso giudicare se quella persona ha fatto quella scelta io non gliela posso impedire però gli posso dare tutti gli strumenti per avere scelte alternative e per dare comunque degli strumenti per avere almeno una vita che non è fatta di dolore ecco cioè che sia una vita sana anche se ha fatto qualche tipo di scelta non so se avete altre domande da fare fate liberamente anche io ne avrei una che posso intanto fare insomma intanto che aspettiamo e siccome sappiamo che durante questi ultimi due anni di pandemia c'è stato un aumento della prostituzione indoor mi chiedevo se anche per la comunità la comunità trans è stato lo stesso insomma se avete visto se avete notato un maggiore un aumento insomma della prostituzione indoor e cosa questo comporta anche da un punto di vista di assistenza e di emersione allora il fenomeno dell'indoor in realtà nasce molto prima della pandemia è un fenomeno in crescita da almeno un decennio e l'abbiamo visto su varie categorie di persone che si prostituiscono l'abbiamo visto con le donne dell'est Europa e l'abbiamo visto con le donne cinesi cioè almeno nella mia esperienza in Emilia Romagna è stata molto istruttiva su questa perché c'era in Emilia Romagna funziona un po' diversamente rispetto a Lazio lì c'è un sistema regionale sia sull'antitratta che sulla riduzione del danno c'è un coordinamento regionale le unità di strada si vedono periodicamente a livello regionale ci sono collaborazioni tra varie unità di strada a livello provinciale cioè un'organizzazione completamente diversa però che permette di fare alcune sperimentazioni una di queste era proprio sull'indoor per esempio c'è tutto il progetto di contatto prendendo gli annunci sui principali siti internet di contattare tutte le persone che si postituiscono c'è un'operatrice che presenta il progetto e presenta i vari servizi e cerca di agganciare la persona è una cosa difficile perché lì la tratta e lo sfruttamento ha trovato il modo per cioè noi siamo un po' degli scocciatori quando andiamo in strada e quindi siamo un disturbo per le organizzazioni perché in strada paradossalmente c'è più libertà come dicevo prima di movimento da parte delle donne e delle persone trans che si postituiscono quindi con la scusa del preservativo anche l'operatrice che fa riduzione del danno poi può dare informazioni sulla fuoriuscita dalla sfruttamento della tratta invece al telefono noi non sappiamo chi c'è dietro alla persona che risponde perché magari la donna o la donna trans risponde al telefono dietro c'è il proprio sfruttatore o la propria sfruttatrice e quindi tante informazioni non possono essere date perché è possibile che sia un rischio per la sicurezza di quella persona e quindi diventa sempre più difficile l'aggancio e poi abbiamo visto c'è anche il fenomeno delle vabbè stiamo un po' fuori tema c'è il fenomeno dei centri di massaggio cinesi che per esempio lì con un progetto sperimentale si era riusciti ad entrare all'interno dei centri di massaggio per proporre visite ginecologiche alle donne perché poi nella tratta cinese sono donne di una certa età dai 40 anni in su che hanno alcuni problemi ginecologici e che loro pensavano che in Italia non era possibile visitarsi perché andavano o a Prato dove ci sono i medici cinesi oppure ogni due anni tornavano in Cina senza sapere che potevano farlo nel servizio sanitario nazionale e quindi l'aggancio diventa appeggiorata un po' le cose perché le persone si sono spostate dalla strada per i vari decreti non era possibile stare all'aperto tante persone si sono trasferite al chiuso però come le fai a raggiungere e questa è la difficoltà che hanno tante unità di contatto perché non sanno più che idee prendere dal cappello per contattare queste persone bisognerà fare nuove sperimentazioni per cercare di contattarle per quanto riguarda il mondo trans per fortuna il passaparola funziona tantissimo che magari le persone che lavorano solo in casa vengono a sapere di certi servizi come per esempio quello di ora d'aria e si presentano al nostro sportello e quindi si riesce a contattarle in qualche modo ma non è così facile secondo me sarà sempre peggio questo dipende molto anche per esempio in passato prima del covid molto facevano i vari decreti dei comuni le varie delibere comunali che impedivano la prostituzione in strada che poteva essere due per il decoro ma per il nostro lavoro diventava tutto un po' difficile perché come contatti poi queste donne scompaiono vanno nell'ombra e aumentano il loro rischio benissimo grazie io aspetto se qualcuno di voi vuole fare qualche altra domanda Valentina o comunque chiedere qualcosa grazie volevo chiedere un attimo una cosa mi sentite? sì e niente volevo capire se in qualche modo questa attività è compatibile con avere una famiglia o comunque con relazioni appunto tra più persone e nel caso ci siano dei figli o dei dei minori appunto c'è la possibilità che siano salvaguardati o comunque vivano un clima così adatto alla loro crescita o è un rischio? allora di persone trans che si prostituiscono che hanno bambini qui in Italia io sinceramente non ne conosco non ne ho mai viste di persone trans italiane che invece hanno bambini sì ne conosco tante sono famiglie anche abbastanza felici dove c'è amore c'è un c'è un ambiente di sviluppo sano per un bambino ecco questo sì è possibile ma parliamo di persone che invece hanno una vita completamente tranquilla che lavorano una delle mie amiche trans ha due bambine bellissime che aveva avuto quella sua precedente moglie prima della transizione con un affidamento congiunto ordinato dal tribunale civile cioè non non è questo il problema ecco non se parliamo invece del freno della prostituzione persone trans che io conosco se hanno ufizie le hanno ma in tutti questi anni ho conosciuto solo una persona che aveva figli ma sono giù nel loro paese addirittura non sanno nemmeno cosa fare il proprio genitore qui in Italia grazie prego c'è una domanda da parte di Marco che ci chiede come mai non si è fatto nulla per colpire i consumatori di questo tipo di commercio che alimenta la tratta di persone qualcosina è stata fatta di solito sono i comuni che fanno questo cioè sempre con le famose delibere per il decoro che di solito possono essere delle multe fatte per non lo so se ne inventano di tutte per divido di sosta sosta in doppia fila o situazione del traffico però a livello statale non non si è mai fatto perché in Italia prostituirsi non è un reato è il reato lo sfruttamento la tratta la riduzione di insegni di schiavitù però non il prostituirsi in sé non è reato ecco l'adescamento è reato quello sì ma l'atto di prostituzione in sé non è reato quello che dice la legge Merlin poi sulla colpire i consumatori secondo me è proprio l'idea io sono di questa idea anche un po' anticarceraria se mi permettete perché io sono sempre per la retenzione di chi commette reati e in questo caso più che un reato cioè bisogna capire anche la psicologia di questi uomini c'è una collega era una psicologa che faceva parte dell'unità di strada di Pisa che adesso poi ha scelto di cambiare lavoro che per la sua tesi di laurea aveva fatto uno studio sui gruppi di uomo perché poi su internet sono queste cose assurde dove ci sono i blog dei clienti delle prostitute che quando me l'hanno fatto leggere io mi sono un po' messa le mani nei capelli perché è qualcosa se passate nel tema osceno non l'ho trovato edificante leggere però era indicativo un po' di cosa passa nella testa di questi uomini secondo me tanta prevenzione andrebbe fatta nell'educazione familiare perché certi tipi di perversioni certi tipi di impulsi non ha un uomo e ve lo dico perché ci sono nata un uomo quindi so cosa significava e cosa significa adesso anche essere donna quindi l'essere trans è un po' un osservatorio privilegiato un uomo c'è questa parte della natura del testosterone che spinge è qualcosa di molto complicato secondo me da gestire in alcune persone l'impulso sessuale è molto forte ma non perché bisogna gestirlo per una questione morale è perché è qualcosa che poi non fa ragionare alcuni uomini secondo me soprattutto se non hanno avuto un certo tipo di educazione affettiva e sessuale non cioè è come se avessero questo forte impulso poi quello che ci vengono a dire le prostitute questo questi racconti sia dalle donne e sia dalle donne trans che poi alla fine molte volte non è che si consumano i propri rapporti sessuali lì cioè è molto un servizio di counseling poi c'è anche anche quello però è più delle volte il lavoro della psicologa è un po' quello della parrucchiera è un po' psicologa se mi permette della battuta perché poi queste poverine devono stare a sentire non solo a fare prestazioni sessuali con questi uomini ma devono anche ascoltare i problemi che le moglie non vogliono ascoltare a casa e e devono stare lì anche a consigliarli cioè molte mi dicono guarda quasi quasi mi devo dare la laurea ad onore ma come psicologa perché io ne sento più di te spesso è quello che mi dicono le ragazze perché è così perché poi c'è l'uomo su me va a cercare certe rassicurazioni delle prostitute perché magari si vergognano di parlare di certe cose con le proprie mogli o con le proprie compagne cioè hanno proprio paura cioè perché come è fatta l'educazione maschile ancora oggi così rigida dove non c'è l'uomo educato a non esprimere i propri sentimenti le proprie emozioni anzi addirittura in alcuni casi manco a riconoscerle che poi si vergognano di parlarne in famiglia con chi amano e vanno a cercare queste figure manco la psicologa a ricercare nella nella sex worker della prostituta è un po' un segno secondo me di questa educazione se mi permettete un po' binaria ma nel senso non che bisogna essere trans ma nel fatto di inculcare fin da piccoli certi tipi di stereotipi di genere non fa bene perché secondo me la salute mentale anche da un punto di vista del genere è una certa certa flessibilità nell'essere uomini e donne e soprattutto secondo me è l'educazione affettiva e sessuale che può fare tanto e secondo me sono sempre più convinta che può fare tanto da un punto di vista della prevenzione perché se abbiamo uomini che sono più in pace con se stessi secondo me abbiamo uomini meno violenti uomini più affettuosi rispetto alle proprie mogli e proprie compagne e i propri figli meno omicidi meno femminicidi e sicuramente meno abuso della costituzione allora Stefania che ringrazia e anche Silvia chiedono se si può collaborare con qualche associazione e quindi se uno se qualcuno fosse interessato a collaborare se puoi indirizzarli verso qualche associazione o la tua e ci spieghi bene cosa fate o magari associazioni con Radaria poi posso lasciare i recapiti tramite te e ne possiamo parlare su Radaria con un non vi immaginiamo delle frotte di persone da ad aiutare siamo una piccola associazione noi in casa abbiamo massimo sei persone in comunità e volontariato sicuramente potrebbe servire non lo so quando abbiamo i fondi e le richieste non lo so immagino giù in parrocchia torbaianica o nell'ascolto delle persone però il lavoro non è tantissimo di quello che si possa immaginare altro tipo di volontariato secondo me è rivolgersi alle associazioni LGBT perché lì ce n'è tanto bisogno perché lì e poi secondo me immagino che la maggior parte di voi sia credente cioè io per esempio c'è questa cosa che mi è rimasta in mente della mia risidilauria era quello di sostenere questo coping religioso di cui parlavamo prima che sarebbe invece bello vedere nelle parrocchie so che ci sono alcuni gruppi cattolici LGBT che lo fanno ma di solito sono frequentati più da maschi gay o da donne lesbiche però sarebbe bello vedere dei gruppi sostenere dei gruppi di persone trans credenti e vi posso dire ce ne sono tantissime che non verrebbero soltanto l'ora di essere accolti e di fare gruppo cioè secondo me come cattolici avreste tanto lavoro da fare da questo punto di vista perché donne trans identi ne è pieno cioè a Napoli però nella comunità italiana trans per esempio c'è un'altra frequenza delle parrocchie perché vabbè a Napoli c'è una tradizione anche millenaria su questo perché ci sono anche dei viti non so si fa l'aiuto a Monteverg al santuario di Montevergine che da protestante ci vado anch'io perché poi è una tradizione della comunità trans italiana di fare il pellegrinaggio il 2 febbraio della Candelora a Montevergine e posso dire che la metà delle persone presenti poi lì a Montevergine sono tutte persone trans quindi secondo me si potrebbe anche creare e io mi rendo disponibile ad aiutarvi in questo senso a creare dei gruppi con con vero piacere grazie questo è molto interessante chiunque fosse interessato può contattare o Valentina direttamente vi posso lasciare i contatti o anche anche me anche noi come carica se possiamo metterci insomma possiamo creare dei gruppi come come si diceva questa è una credo sia un'ottima opportunità io ho visto un'ultima un'ultima domanda sempre di da parte di Paolo che ci dice che abbiamo esempi di famosi artisti che frequentano prostitute e come si spiega immagino si riallaccia al discorso che hai fatto un po' prima è bene che gli artisti maschi siano diversi dagli altri maschi secondo me al fine sotto sotto sempre maschi avranno una sensibilità maggiore ma sempre maschi rimangono mi dispiace per i maschi presenti non ho non ne uscite bene però è così purtroppo al contrario donne che soffriscono di servizi di prostituzione sono veramente molto poche e poi quello che mi sono dimenticato di dire prima come gli artisti ma anche tanti politici perché poi se dovessimo svelare gli artarini di quello che dicono le ragazze qui caderebbero governi sono tutti politici che soffriscono di questo tipo di servizi ma perché c'è una questione di potere perché lì tu paghi un servizio e quindi tieni un certo tipo di potere sull'altra persona non c'è di un tipo di dinamiche che si possono instaurare perché quello non è un rapporto paritario cioè non è un rapporto paritario tra uomo e donna o tra donna trans e uomo un rapporto affettivo quella è una giustamente una compravendita io compro e quindi per quell'ora io ho potere su di te che è allucinante e che io manderei tutti dello psicoanalista però è così funziona così e più potere hai più soldi hai e più ricerchi della prostituzione perché poi se vediamo anche le donne pochissime che lo fanno che cercano poi i famosi gigolò però sono donne di potere che hanno i soldi e quindi si innesca la stessa dinamica Daetana ringrazia per stato molto interessante approcciare la tratta transessuale in un mondo sconosciuto avete altre c'è qualche altra domanda posso lasciare la parola a qualcuno che c'è eh io volevo ringraziare Valentina eh purtroppo mi sono collegata alle sei e mezza ma mi riprometto poi di rivedere il video ecco è stato molto ti ringrazio molto interessante che l'incontro anche la la chiarezza e la eh la schiettezza con cui hai parlato ecco che è importante ecco e credo che hai toccato dei punti che che ci sentiamo anche di come dire che li condividiamo profondamente ecco mettere al centro la persona la donna prima di tutto e poi lavorare anche sul sul mondo maschile io lo sento molto forte questo è una provocazione e che continuo anche a insistere perché bisogna cominciare a incidere a livello educativo culturale di mentalità altrimenti andiamo sempre a recuperare gli scarti che si creano le ferite eh la prevenzione soprattutto questo bisogna aiutare a partire dalla famiglia dalle scuole dalle istituzioni lavorare molto su questo ecco credo che è una grande sfida che abbiamo davanti però è importante eh sentirci uniti è bello perché questa sera ci sentiamo anche veramente unite anche a a tutta questa realtà e e e come dire e l'impegno è massimo per cercare sempre sì non siamo i salvatori come dicevi Valentina nessuno salva ma almeno ecco ridurre il eh ridurre la sofferenza il dolore la fatica ecco e tutto questo e poter restituire dignità e e una possibilità nuova a chi lo desidera ed è giusto offrire queste opportunità veramente grazie e bello grazie a voi per avermi invitata ecco scusate un'ultima domanda se ancora in tempo sì ho avuto modo di indirizzare una persona al progetto Roxanne del comune un paio d'anni fa insomma e non non ho avuto non non ha avuto una buona esperienza questa donna perché a un certo punto il progetto è terminato da parte di un'associazione e nemmeno avevano passato i dati a quella successiva insomma si è persa così un po' la situazione c'è una rete che raggruppa un po' appunto ora d'aria o tutte le iniziative che comunque intervengono sul campo o non c'è un coordinamento? Eh in teoria doveva essere Roxanne però il comune ha fatto delle scelte un po' strane la precedente giunta prima che finisse il mandato quindi aspettiamo le decisioni della nuova giunta su questo non ancora non si sa molto in realtà poi io non sono addentro a queste cose sinceramente però che io sappia dovrebbe riuscire un bando e capire cosa succederà successivamente però Roxanne è più sulla riduzione del danno che sulla tratta vera e propria sulla tratta c'è una rete in realtà a Roma di cui fa parte anche ora d'aria con altre cooperative e associazioni Silvia ci ci lascia con questa osservazione in carica sarebbe fantastico organizzare uno sportello d'ascolto dedicato addirittura una struttura in cui dare supporto e aiuto sicuramente un suggerimento interessante ma ci possiamo tenere in contatto per organizzare intanto questi gruppi di cui parlavamo prima perché credo sia una davvero una un'idea molto valida e se non avete altre domande io vi posso lasciare un altro minuto per insomma capire se volete chiedere qualcosa altrimenti ci salutiamo e poi ci ci organizziamo per la per come tenerci in contatto ok mi sembra che abbiamo finito esaurito le domande grazie a tutti